Lance non ha mai lavorato per l'intelligence. Allora perché tutti dicono il contrario? Lo desideravamo entrambi ma solo io riuscì a entrarci. Poi quando Lance venne negli Stati Uniti mi chiese di poter usare la mia storia per sembrare più misterioso e intrigante. Come? Mi scusi, lei sta dicendo che Lance de Lorca non ha mai lavorato nei servizi segreti. Prima di darsi alla recitazione faceva il pastore sui Pirenei. Ehi, allora, la versione di Enrique Gomez regge e grazie alla sua autorizzazione l'intelligence ha confermato che Lance de Lorca non ha mai lavorato per loro. Il mio eroe era un bugiardo e un pastore. Beh, capisco che tu ti senta tradito dal tuo idolo ma dobbiamo trovare il suo assassino. Come? Siamo al punto di partenza. Non è detto, c'è sempre la donna misteriosa che ha seguito Lance dall'albergo. Forse non è più misteriosa. Anche lei era un pastore? Oh, santa Gioia.